Al meetup del Movimento 5 Stelle qui a Mazzara del Vallo, una riunione importante, quella di oggi si fa il sunto dell'attività parlamentare ma anche quella regionale. Allora onorevole, quale è fino ad ora l'attività svolta dal Movimento 5 Stelle? Noi siamo una forza di opposizione presente in Parlamento e anche in Regione, ci stiamo occupando dei temi che secondo noi sono principali per il nostro Paese. Tra tutti in questo momento mi viene da ricordare il reddito di cittadinanza ma ci siamo battuti anche per l'abolizione di Equitalia e anche per la riduzione delle tasse per quanto riguarda il mondo del lavoro. Quindi abbiamo per esempio proposto la legge per l'abolizione dell'IRAP con delle coperture che riguardano i tagli dei costi della politica e poi i temi noti del Movimento 5 Stelle che riguardano il Parlamento pulito. Quindi l'incandidabilità di persone che sono già state condannate, il vincolo dei due mandati e la riduzione degli stipendi dei parlamentari. Cosa ne pensa dell'elezione della nuova Presidenza della Repubblica? Noi ci siamo espressi favorevolmente nel senso che il discorso di insediamento che ha fatto ci ha colpiti perché comunque ha fatto riferimento spesso delle tematiche del Movimento come l'anticorruzione. Noi siamo l'unica forza in Parlamento che ha spinto per portare in aula questa legge che invece da tutte le forze politiche che avevano nel programma elettorale la legge del conflitto di interessi dell'anticorruzione e loro la rimandavano indietro, non la facevano discutere in aula rendendo vana tutta l'attività. Per questo questi sintomi, queste spinte del nostro Presidente verso questo ci ha lasciato delle porte e gli spirali positivi. Ovviamente noi abbiamo detto che lo attendiamo alla prova dei fatti perché purtroppo abbiamo imparato che alle parole della politica se non seguono i fatti sono parole vane. Legge elettorale qual è il futuro? Per quanto ci riguarda questa legge elettorale è anche peggio di quella precedente, soprattutto per un elemento, cioè la mancanza delle preferenze. Noi ci stiamo battendo, abbiamo anche fatto un tavolo di lavoro insieme al PD, abbiamo chiesto un confronto, ma il PD preferisce allearsi con Berlusconi piuttosto che lavorare con il Movimento 5 Stelle che porta sempre la voce dei cittadini dentro le istituzioni. La battaglia delle preferenze per noi è essenziale in un paese in cui non c'è una libertà del voto, ma c'è invece un fenomeno di scambio del voto politico mafioso notevole. Quindi le preferenze sono l'arma per una delle armi per combattere questo fenomeno. Il PD non vuole ascoltare neanche tra l'altro persone interne dello stesso partito. Renzi decide che la linea del PD deve essere quella di non avere le preferenze e quindi di continuare con queste nomine calate dall'alto per gestire sostanzialmente il paese e il PD obbedisce. Il Movimento 5 Stelle ultimamente ha perso un paio di elementi, come mai e quale sarebbe un riscontro anche a livello di voto se si adassero le elezioni adesso secondo lei? Noi già in campagna elettorale dicevamo che un 10-20% ci avrebbe abbandonato perché purtroppo entrando nelle sale del potere qualcuno si fa prendere da questo vortice. Quindi alcuni, la maggior parte tra l'altro e questo lo vorrei sottolineare, sono andati via dal movimento di loro spontanea volontà utilizzando i metodi discutibili che abbiamo visto. Alcuni invece sono stati allontanati dopo una votazione democratica sui nostri portali e sono stati allontanati e sono andati al gruppo misto. Diciamo che questo è un elemento che nel caso del Movimento 5 Stelle fa notizia ma avviene ogni giorno con tutti i partiti. Noi, la nostra politica è quella che quando qualcuno non si rivede più nel movimento, nei nostri valori dovrebbe uscire fuori dal Parlamento e dare spazio agli altri eletti del movimento perché si deve tenere fede a quello che si è detto agli elettori in campagna elettorale. Chi invece prende queste vie un po' perché non vuole restituire le somme che noi andiamo a restituire proprio in un fondo statale del nostro stipendio, un po' perché vengono presi queste smanie di potere e pensano che appoggiare la maggioranza li porterà ad avere dei risultati migliori, un po' perché mirano a ricandidarsi. Quindi tutti questi elementi fanno sì che queste persone non siano più compatibili con l'attività del Movimento 5 Stelle. Perfetto, onorevole Tancredi, a livello regionale invece l'attività svolta è finora dal Movimento 5 Stelle? Beh, io di fatto potrei ripetere passo per passo quello che ha detto la mia collega Azzurra perché noi di fatto siamo in assoluta contiguità e continuità con l'attività fatta a livello nazionale anche perché noi in regione abbiamo le stesse difficoltà che loro incontrano a livello nazionale in quanto il governo regionale, targato crocetta, quindi targato centrosinistra, quindi PD fa di fatto le stesse cose che vengono perpetrate perché per me sono quasi dei crimini verso la collettività quelle che vengono perpetrate da questa maggioranza nazionale e da questa maggioranza regionale. Lo stiamo vedendo ogni giorno con le iniziative e con le proposte di legge che vanno sempre deprimendo la situazione della gente comune che si affida alla politica per avere delle risposte e sistematicamente non le trova, anzi vede un peggioramento delle proprie condizioni, della propria situazione personale. E di oggi la notizia dei depuratori siciliani che stanno mandando in rovina l'intera Sicilia, insomma l'Europa ci bacchetta, Renzi arrabbiatissimo con crocetta, come andrà a finire? Questa è una cosa che noi abbiamo messo all'attenzione dei media già nell'estate del 2013, quindi è una delle prime denunce portate a livello europeo dal movimento ed era una delle cose che noi avevamo puntato in maniera prioritaria spingendo questo governo perché ricordo che non molti ci dicono che noi siamo opposizione distruttiva, ma in realtà noi ci siamo sempre posti in un'opposizione costruttiva dando notevoli suggerimenti e notevoli input a un governo che si è sempre reso sordo a qualunque tipo di input venisse dall'opposizione, ma anche a pezzi della loro stessa maggioranza, se dobbiamo dirla tutta. Quindi di fatto ci troviamo al fallimento di un governo regionale che viene parzialmente commissariato dal governo nazionale, quindi una lotta interna al PD stesso che è l'esempio eclatante del fallimento della politica che stiamo vivendo sulla nostra pelle noi tutti cittadini perché noi, lo tengo a ricordarlo, siamo innanzitutto dei cittadini prima di essere dei deputati, degli onorevoli perché quello è qualcosa che secondo me si deve conquistare sul campo, con l'operato e dovrebbe essere un riconoscimento postumo all'attività di governo o all'attività parlamentare.